Amo lo scudo nel corridoio con il C4 Tutti i corridoi nello scudo Ma eh si Io non voglio Io non voglio Stupido drone Ma ragazzi guardate questo C4 Cioè attraversa lo scudo Raga mettete i ripari mobili nel corridoio È un ordine Io registro tutto quanto Va a postolo Così facciamo vedere quanto siamo pro Che ripara mobilistica Non lo vedranno mai Allora Fermo Se lo dichi tu Però scolvere Tutta recluta Valchiria Perché se non ha menuto La telecamera dove serve a vedere Con Cosico Beh c'è la telecamera in corridoio però No Sti bacchi Oh uno su Stai entrando uno su ragazzi Stai entrando uno su Stai entrando uno su Stai entrando Stai entrando Stai entrando Sì va bene Facciamo una segnalazione Aibana A posto Vabbè Ho visto il controle Che tristezza però No le reclute non possono perdere così È un ordine E family è un pro Perché ha distrutto il riparo Mobile con la C4 Non è morto Dettagli eh E stai bravo col pompa Usa la mitraglietta Piuttosto Ma Quello che ho appena visto È stato fico Via 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 Secondo me Dovevamo usare tutti il pompa Dovevamo usare tutti i miei Ma dai Ma sono stato lì e mezza da guardare Mi smetto di guardare un attimo Mi arriva Twitch Basta dire Monkey Ma non era possibile Stato lì in quattro d'ora Guarda a guardare Mi giro un attimo Mi coglianito con la pistola Cosa sua Sì Mi sa che uno sta plantando O sta cercando L'ultimo nemico No c'è quello lì Gira la plant Mi fro Hai fermo Andare in giro Per tutto il mondo Luca mi fai muovere Calma Il tempo scade Luca muovi la camma No Orco di Rimangono 5 secondi No Troppo lol Troppo lol Posso